39. Luce! gridò Josh, indicandone la distanza. Guardate lì! C'è della luce più avanti! Avevano seguito un'autostrada che percorreva una campagna dolcemente ondulata e adesso riuscivano a vedere la luce che Josh stava indicando. Una luminosità bianca-bluastra che si rifletteva sulle nuvole basse e turbolente. «Quella è Matheson», disse Liona, dal punto in cui sedeva sulla schiena di Mulo. «Signore Onnipotente! Hanno l'elettricità a Matheson!» «Quanta gente ci vive!», le chiese Josh, parlando a voce molto alta per superare il rumore del vento. «13 o 14.000! È una vera città!» «Grazie a Dio! Devono aver riparato la loro rete elettrica! Mangeremo qualcosa di caldo stasera! Grazie a Dio!» Iniziò a spingere la carriola con energia ritrovata, come se ai suoi talloni fossero cresciute le ali. Suon lo seguì, portando il bastone da rabdomante e la sua piccola borsa, e Liona colpì i fianchi di Mulo con i talloni per far avanzare l'animale. Mulo ubbidì senza esitazione, felice di essere di nuovo utile. Dietro di loro, il piccolo Terry rannusò l'aria e ringhiò piano, ma li seguì comunque. Lampi di luce passarono nella coltre di nubi sopra Matheson, e il vento portò loro il rombo del tuono. Avevano lasciato la fattoria degli jaspin presto quella mattina, e avevano camminato per tutto il giorno sulla stretta autostrada. Josh aveva provato a mettere sella e briglie al cavallo, ma anche se Mulo era rimasto fermo docilmente, lui non era riuscito a sistemare per bene quelle dannate cose. La sella continuava a scivolare, e non riuscì proprio a capire come mettere le redini. Ogni volta che Mulo aveva emesso anche solo un bruntolio, Josh era saltato via per togliersi di torno, aspettandosi che l'animale sgruppasse e si impennasse, e alla fine lasciò perdere, considerando la cosa una causa persa. Ciò nonostante, il cavallo aveva accettato il peso di Leona senza problemi, aveva anche portato Swan per alcuni chilometri. Il cavallo sembrava felice di seguire Swan, quasi come un cucciolo, e da qualche parte nel buio il cane di tanto in tanto abbaiava per far loro sapere che era ancora nei dintorni. Il cuore di Josh stava martellando. Quella era una delle luci più belle che avesse mai visto, insieme al glorioso raggio della torcia che aveva attraversato il seminterrato. «Oh signora», pensò, «un pasto caldo, un posto caldo in cui dormire». «E gloria delle glorie, forse addirittura di nuovo un gabinetto vero», sentì odore d'ozono nell'aria. Si stava avvicinando una tempesta di fulmini, ma non gli importava. Quella notte avrebbero riposato in grembo al lusso. Josh si voltò verso Swan e Leona. «Oddio, siamo tornati alla civiltà!» emise un urlo che superò il vento e che fece addirittura saltare Mulo. Ma il sorriso si congelò sul volto di Leona. Iniziò lentamente a sciogliersi e le sue dita si strinsero nella ruvida criniera nera del cavallo. Non era sicura di quello che aveva visto. Non era affatto sicura. Disse a se stessa che era stato un gioco di luce. Un gioco di luce, sì, tutto qua. Leona pensò di aver visto un teschio al posto della faccia di Josh Hutchins. Ma era stato così rapido. C'era e poi era sparito in un battito di ciglia. Fissò la nuca di Swan. «Oddio!» pensò Leona. «Cosa farò se anche la faccia della bambina fosse così?» Ci mise un po' per trovare il coraggio e poi disse, con voce debole e spaventata, «Swan!» La bambina si voltò. «Signora?» Leona stava trattenendo il respiro. «Signora!» ripetè Suon. Leona riuscì a sorridere. «Oh, niente!» disse e fece spallucce. Non c'era alcuna visione di un teschio. «Io volevo solo vedere il tuo volto», disse alla bambina. «Il mio volto? Perché?» «Oh, stavo solo pensando quanto devi essere stata carina», balbettò per il suo stesso errore. «Voglio dire quanto sarai carina di nuovo una volta che la tua pelle sarà guarita. E succederà. La pelle è una cosa davvero resistente, sai. Sì che lo è. Guarirà presto e tornerà a essere splendida!» Suon non rispose. Ricordava l'orrore che le aveva restituito lo sguardo dallo specchio del bagno. «Non credo che il mio volto guarirà mai», disse in modo pratico. D'un tratto fu colto da un pensiero terribile. «Non pensa che...» fece una pausa, incapace di pronunciarlo. Poi disse «Non pensa che... spaventerò la gente a Matheson, vero?» «Certo che no! E non pensarla nemmeno una cosa del genere. In realtà, Liona non ci aveva mai pensato prima, ma adesso poteva immaginare i residenti di Matheson arretrare davanti a Josh e Swan. La tua pelle guarirà molto presto», assicurò alla bambina. «Inoltre quello è solo il tuo volto esteriore». «Il mio volto esteriore?» «Sì, tutti hanno due volti, bambina. Quello esteriore e quello interiore. Quello esteriore è come ti vede il mondo, ma quello interiore. È il tuo vero aspetto. È il tuo volto vero. E se fosse rivoltato all'esterno, mostreresti al mondo che genere di persona sei». «Rivoltato all'esterno? Come?» Liona sorrise. «Beh, Dio non ha ancora trovato un modo per farlo, ma lo farà. A volte puoi vedere il volto interiore di una persona, ma solo per uno o due secondi, se guardi abbastanza da vicino e con attenzione. Gli occhi rivelano il volto interiore e molto probabilmente è completamente diverso dalla maschera incollata all'esterno». Annui e guardò verso le luci di Matheson. «Oh, ho incontrato gente bellissima che aveva volti mostruosamente brutti all'interno e ho incontrato delle persone semplici, con denti da coniglio e grandi nasi, che avevano la luce del paradiso nei loro occhi. E se ne avessi visto i volti interiori, la loro bellezza ti avrebbe fatto cadere in ginocchio. Immagino che sia così anche per il tuo volto interiore, bambina, e anche per quello di Josh. Quindi che importanza ha il tuo volto esteriore?» Suon ci pensò su per qualche istante. «Mi piacerebbe crederlo». «Allora accettalo come verità», disse Liona. E Suon restò in silenzio. La luce li incitava a proseguire. L'autostrada si arrampicò su un'altra collina e poi iniziò a curvare gentilmente verso la città. All'orizzonte cadevano dei fulmini. Sotto Liona, Mulo sbuffò e nitrì. Suon sentì una nota di nervosismo nel nitrito del cavallo. «Mulo è eccitato perché troveremo altre persone», pensò. «Ma no, no». Quello non era stato un suono eccitato. Suon lo aveva percepito come sfiducia, come nervosismo. Iniziò ad assimilare lo stato d'animo del cavallo e a sentirsi anche lei un po' diffidente, come quella volta in cui stava passeggiando in un grande campo dorato e un contadino con un cappello rosso le aveva gridato «Ehi, bambina, stai attenta ai sonagli in quel grano!». Non che avesse paura dei serpenti, anzi, una volta a cinque anni aveva raccolto direttamente dall'erba un serpente colorato. Aveva fatto scorrere le sue dita sui bellissimi diamanti sulla sua schiena e sui rigonfiamenti simili a ossa sulla coda. Poi lo aveva messo giù e aveva osservato come era strisciato via, con tutta calma. Fu solo più tardi, quando l'aveva raccontato a sua madre e si era beccata una sculacciata epica, che Suon si rese conto che avrebbe dovuto avere paura. Mulo fece un nitrito e scosse la testa. La strada si appiattì, mentre si avvicinavano alla periferia della città, dove un cartello verde annunciava «Benvenuti a Matheson, Kansas! Siamo forti, orgogliosi e in crescita!». Josh si fermò e Suon quasi gli finì addosso. «Che succede?» gli chiese Liona. «Guarda!» Josh indicò la città. Le case e gli edifici erano scuri. Nessuna luce proveniva dalle loro finestre o dai portici. Non c'erano lampioni, fari di automobili o semafori. Il bagliore che si rifletteva nelle nuvole basse arrivava da un punto più al centro della città, oltre le strutture morte e buie che erano sparpagliate su entrambi i lati della strada principale. Non c'era alcun suono, tranne l'urlo acuto del vento. «Credo che quella luce arrivi dal centro della città», disse a Suon Liona. «Ma se è tornata l'elettricità, perché non ci sono luci anche nelle finestre delle case?» «Magari sono tutti nello stesso posto», propose Liona. «Magari all'auditorium, al municipio o qualcosa del genere», Josh annuì. «Dovrebbero esserci delle auto», disse. «I semafori dovrebbero essere accesi. Io non ne vedo nessuno». «Forse risparmiano l'elettricità, forse i cavi non sono ancora abbastanza resistenti». «Forse», rispose Josh. «Ma c'era qualcosa di sinistro in Matheson. Perché non c'erano luci alle finestre, eppure qualcosa al centro della città risplendeva di luce? E tutto era così silenzioso, così assolutamente silenzioso. Ebbe la sensazione che dovevano tornare indietro. Ma il vento era freddo, e avevano fatto così tanta strada. Doveva esserci della gente qui, sicuro. Sono tutti nello stesso posto, come aveva suggerito Liona. Forse hanno un'assemblea cittadina o qualcosa del genere. In ogni caso non c'era possibilità di tornare indietro». Ricominciò a spingere la carriola. Suon lo seguì. Il cavallo che portava Liona seguì Suon, e sulla sinistra il terrier restò nell'erba alta, e corse avanti. Un altro cartello stradale pubblicizzava il Matheson Motel, piscina, tv via cavo. E un terzo cartello diceva che il miglior caffè e i migliori bistecchi della città si potevano trovare al ristorante Hightower su Caviner Street. Seguirono la strada attraverso campi arati, e superarono uno stadio di softball al buio, e una piscina pubblica, in cui l'esdraio e gli ombrelloni erano stati soffiati contro la recinzione metallica. Un ultimo cartellone annunciava la svendita di fuochi d'artificio di giugno al Kmart su Billup Street. E poi entrarono a Matheson. Josh pensò che era stata una bella città, mentre camminava lungo la strada principale. Gli edifici erano fatti di pietre o tronchi, con l'intenzione di assomigliare a una città di frontiera. Le case, la maggior parte a un solo piano, erano di mattoni, nulla di raffinato, ma abbastanza belle. La statua di qualcuno inginocchiato, con una mano a coprire quella che avrebbe potuto essere una Bibbia e l'altra tesa verso il cielo, si trovava su un piedistallo in una zona di piccoli negozi e botteghe che ricordarono a Josh il Mayberry Show con Andy Griffith. Una tettoia si estendeva davanti a un negozio, con davanti un palo del barbiere, e le vetrate della Matheson First Citizens Bank erano frantumate. Da un mobilificio erano stati portati fuori i mobili, erano stati ammucchiati e incendiati. Lì accanto c'era un'auto della polizia, anche essa bruciata fino a essere nulla più che un relitto. Josh non guardò all'interno. in alto rombavano i tuoni e i lampi danzavano nel cielo. Più avanti trovarono un parcheggio di auto usate. L'insegna diceva «compra da zio Roy». Sotto file di bandierine multicolore che sbattevano al vento, c'erano sei automobili impolverate. Josh iniziò a controllarle tutte, una per una, mentre suon e liona attendevano e Mulo brontolava inquieto. Due di esse avevano gli pneumatici bucati e una terza aveva il parabrezza e i finestrini in frantumi. Le altre tre, una Impala, una Ford Fairlane e un pick-up rosso, sembravano in ottime condizioni. Josh andò fino al piccolo ufficio, trovò la porta spalancata e con la luce della lanterna antivento individuò le chiavi per tutti e tre i veicoli su un pannello forato. Portò le chiavi nel parcheggio e le provò metodicamente. L'Impala non emise un suono, il pick-up era morto e il motore della Fairlane scoppiettò e borbottò, fece il rumore di una catena trascinata sui ciottoli e poi restò silenzioso. Josh ne aprì il cofano e scoprì che il motore era stato attaccato con qualcosa che avrebbe potuto essere un'ascia. I circuiti elettrici, le cinghie e i tubi erano stati mozzati. «Dannazione!» imprecò. E poi la lanterna gli rivelò qualcosa scritto con il grasso secco all'interno del cofano. «Tutti lodino Lord Dalvin». Guardò la scritta scarabocchiata, ricordando che aveva visto la stessa cosa, anche se realizzata con una grafia e una sostanza diverse, nella casa degli Jaspin, la notte prima. Tornò da suone Liona e disse «Quelle auto sono rottami, penso che qualcuno le abbia danneggiate di proposito». Guardò verso la luce, molto più vicina ad esso. «Bene», disse alla fine. «Credo che scopriremo di che si tratta, giusto?» Liona gli lanciò un'occhiata e poi distolse velocemente lo sguardo. Non era sicura di non aver visto di nuovo il teschio, ma in quella strana luce non poteva esserne certa. Il suo cuore aveva iniziato a battere più forte e non sapeva cosa fare o dire. Josh spinse avanti la carriola. Nella distanza sentirono il cane abbaiare alcune volte e poi silenzio. Continuarono lungo la strada principale, passando davanti ad altri negozi con le vetrine rotte e ad altre auto ribaltate e bruciate. La luce li attirava e, anche se ognuno aveva le proprie preoccupazioni, erano attratti da quella luce come le falene da una candela. A un incrocio c'era un piccolo cartello che indicava a destra e diceva «Istituto Pathway, tre chilometri». Josh guardò in quella direzione e non vide altro che oscurità. «È l'Istituto», disse Liona. «L'Istituto?». La parola lo colpì. «Che istituto?». «Il manicomio. Sai dove mettono la gente che non ha le rotelle a posto. Quello è famoso in tutto lo Stato. Pieno di gente troppo pazza per andare in prigione». «Vuoi dire i pazzi criminali». «Sì, esatto». «Grandioso», disse Josh. «Prima sarebbero andati via da quella città e meglio sarebbe stato. Non gli piaceva trovarsi nemmeno a tre chilometri da un manicomio pieno di assassini pazzi». Guardò nell'oscurità in cui si trovava l'Istituto Pathway e sentì la sua carne rabbrividire lungo tutta la spina dorsale. Poi superarono un'altra area di case silenziose, il Matheson Motel al buio e il ristorante Hightower, ed entrarono in un enorme parcheggio asfaltato. Davanti a loro, dotato di ogni luce e risplendente, c'era un Kmart e accanto un supermercato Food Giant, ugualmente illuminato. «Dio onnipotente», sussurrò Josh. «Un centro commerciale». Suon e Liona si limitarono a fissare, come se non avessero mai visto prima una luce simile, o negozi così grandi. Delle lampade sensibili al buio proiettavano un bagliore giallo sul parcheggio, in cui c'erano forse 50 o 60 automobili, camper e pick-up, tutti coperti dalla polvere del Kansas. Josh era completamente sbalordito e dovette riprendere l'equilibrio prima che il vento lo gettasse a terra. Gli stava passando per la mente che se c'era l'elettricità, allora potevano essere funzionanti anche i frigoriferi del supermercato e all'interno ci sarebbero state bistecche, gelato, birra fresca, uova, bacon, prosciutto e Dio solo sapeva cos'altro. Guardò il Kmart che brillava di luce e gli girava la testa. Che tipo di tesori ci sarebbero stati là dentro? Radio e batterie, torce e lampade, pistole, guanti, stufe alcherosene, impermeabili. Non sapeva se ridere o piangere per la gioia. Ma spinse di lato la carriola e iniziò a camminare verso il Kmart come in preda a uno stordimento delirante. «Aspetta!» esclamò Liona. Scese da Mulo e zoppicò dietro a Josh. «Aspetta un minuto!» Suon mise a terra la borsa, ma tenne in mano Crybaby e seguì Liona. Dietro di lei Mulo la seguì lentamente. Il Terrier abbaiò un paio di volte, poi si infilò sotto una Volkswagen abbandonata e restò lì, osservando gli umani muoversi attraverso il parcheggio. «Aspetta!» gridò Liona di nuovo, ma non riusciva a mantenere il passo dell'uomo e lui si stava dirigendo verso il centro commerciale come una locomotiva a vapore. Suon disse «Josh, aspettaci!» e corse per raggiungerlo. Alcune delle vetrate del Kmart erano rotte, ma Josh immaginò che fosse stato il vento. Non aveva idea del perché le luci fossero accese lì dentro e da nessun'altra parte. Il Kmart e il supermercato confinante erano come oasi in un deserto ardente. Il suo cuore stava per esplodergli dal petto. «Barrette di cioccolato!» pensò selvaggiamente. «Biscotti! Ciambelle glassate!» temeva che le sue gambe avrebbero ceduto prima di raggiungere il Kmart, o che l'intera visione avrebbe tremolato e si sarebbe dissolta mentre lui entrava da una delle porte d'ingresso. Ma non fu così. Lui entrò ed eccolo dentro l'enorme negozio, con tutti i tesori del mondo su scaffali ed espositori davanti a lui, con le parole magiche, snack e dolci, articoli sportivi, auto e casalinghi su frecce di legno che indicavano vari reparti del negozio. «Mio Dio!» disse Josh, quasi ubriaco per l'estasi. «Oh mio Dio!» Suon entrò e poi Liona. Mentre la porta si stava chiudendo, una forma confusa sfrecciò all'interno e il terrier corse accanto a Josh e sparì lungo la corsia centrale. Poi la porta si chiuse e restarono fermi nel negozio, mentre Muloni triva e calpestava l'asfalto all'esterno. Josh passò davanti a un'esposizione di griglie per esterni e sacchi di carbone per dirigersi verso un bancone pieno di barrette, con il suo desiderio di cioccolato che era diventato quasi febbrile. Succhiò tre Milky Way direttamente dal loro involto e iniziò un sacchetto da 200 grammi di M&M's. Liona si diresse a un tavolo pieno di grossi calzini sportivi. Suon passeggiò tra i banconi, sbalordita dalla quantità di merci e dalla luminosità delle luci. Con la bocca colma di cioccolato appiccicoso, Josh si voltò verso un espositore di sigarette, sigari e tabacco da pipa, scelse un pacchetto di Hava Tampa Jewels, trovò dei fiammiferili accanto, si infilò uno dei sigari tra i denti e lo accese ispirando profondamente. Si sentiva come se fosse entrato in paradiso e doveva ancora sperimentare i piaceri del supermercato. In un punto lontano nel negozio, il terrier abbaiò diverse volte in rapida successione. Suon guardò indietro, lungo la corsia, ma non riuscì a vedere il cane. Tuttavia non le piacque il suono di quei latrati. C'era un allarme in essi e quando il cane ricominciò ad abbaiare, lo sentì guaire come se fosse stato preso da un calcio. A quello seguì una scarica di latrati. «Josh!» chiamò Suon. Un bozzolo di fumo di sigaro copriva la testa dell'uomo. Lui fece un tiro dal sigaro e masticò altre barrette di cioccolato. La sua bocca era così piena che non fu nemmeno in grado di rispondere alla bambina. Si limitò a farle un cenno con la mano. Suon camminò lentamente verso la parte posteriore del negozio, mentre il terrier continuava ad abbaiare. Arrivò vicino a tre manichini che indossavano tutti degli abiti eleganti. Quello al centro indossava un cappellino blu da baseball e lei pensò che non si abbinasse affatto all'abito, ma che avrebbe potuto essere della misura giusta per lei. Si allungò e lo prese. L'intera testa di cera carnosa cadde dalle spalle del manichino, uscendo dal rigido colletto bianco della camicia e cadendo a terra ai piedi di Suon con il suono di un martello che colpisce un'anguria. Suon la fissò, con gli occhi spalancati, il cappellino in una mano e tra i baby nell'altra. La testa aveva radi capelli grigi e occhi affossati che si erano girati verso l'alto e sulle guance e sul mento c'era una corta barbetta grigia. Adesso poteva vedere la secca sostanza rossa e il grumo giallo d'osso, dove era stata tagliata dal collo umano. Sbatté le palpebre e guardò gli altri due manichini. Uno di essi portava la testa di un ragazzo adolescente, con la bocca aperta e la lingua di fuori, entrambi gli occhi rivolti verso il soffitto e una crosta di sangue sulle narici. La testa del terzo era quella di un uomo di una certa età, con il volto molto rugoso e del colore del gesso. Suon tornò indietro lungo la corsia e colpì un quarto e un quinto manichino, abbigliati con abiti femminili. Le teste tagliate di una donna di mezza età e di una bambina con i capelli rossi caddero dai colletti e finirono a terra con un tonfo su entrambi i suoi lati. Il volto della bambina era rivolto verso Suon, con la bocca terribilmente e sangue aperta in un muto urlo di terrore. Suon urlò. Urlò a lungo e con forza e non riuscì a smettere di urlare. Si allontanò dalle teste umane ancora urlando e quando si voltò vide un altro manichino vicino e un altro e un altro ancora. Alcune delle teste erano state colpite ed erano malmesse e le altre erano state truccate e abbellite con dei trucchi per conferire loro dei sorrisi falsi e osceni. Suon pensò che se non fosse riuscita a smettere di urlare le sarebbero esplosi i polmoni e mentre correva per raggiungere Josh e Liona il suo urlo si spense perché aveva finito l'aria. Inspirò e scappò via dalle teste disgustose e al di sopra delle urla di Josh sentì il cane emettere dei guaiti di dolore dalla parte posteriore del Kmart. Suon! gridò Josh sputando del cioccolato mezzo masticato. La vide correre verso di lui con la faccia gialla come la polvere del Kansas e con le lacrime che le scorrevano a fiumi sulle guance. Che cosa? Blue Light Special! Cantò una voce allegra dagli altoparlanti del Kmart. «Attenzione clienti! Blue Light Special! Tre nuovi arrivi all'ingresso! Correte per fare gli affari migliori!» Sentirono il forte rugito di una motocicletta diretta contro di loro lungo la corsia centrale, il cui guidatore era abbigliato come un vigile del traffico, tranne per il suo copricapo indiano. «Attenti!» gridò Liona e Josh saltò oltre un bancone pieno di vassoi di cubetti di ghiaccio stringendo suon tra le braccia. La motocicletta li superò scivolando e si schiantò contro un espositore di radio a transistor. Altre figure stavano correndo verso di loro lungo le altre corsie e c'era una pazzesca quantità di urla e strepiti che soffocò il Blue Light Special ripetuto dagli altoparlanti. Arrivò una montagna d'uomo con la barba nera che spingeva un nano contorto in un carrello del supermercato, seguito da altri uomini di tutte le età e di tutti gli aspetti che indossavano ogni genere di vestito, da abiti ad accappatoi, alcuni con strisce di pittura da guerra in faccia, altri dipinti di bianco con la cipria. Nauseato, Josh si rese conto che la maggior parte di loro portava armi. Asce, picconi, zappe, forbici da giardinaggio, pistole e fucili, coltelli e catene brulicavano nelle corsie e saltarono oltre i banconi sogghignando e urlando. Josh, Swan e Liona furono spinti l'uno verso l'altro e circondati da una folla urlante di quaranta o più uomini. «Proteggi la bambina», pensò Josh, e quando uno degli uomini scattò in avanti per afferrare il braccio di Swan, lui gli diede un calcio nelle costole che spezzò le ossa e lo rimandò volando tra la marmaglia. Quella mossa suscitò risate allegre. Il nano contorto nel carrello, la cui faccia rugosa era decorata con fulmini arancioni, gracchiò «Carne fresca! Carne fresca!». Gli altri ripresero il grido. Un uomo emaciato tirò i capelli di Liona e qualcun altro le afferrò il braccio per tirarla tra la folla. Lei si trasformò in una gatta selvaggia, scalciando e mordendo e respingendo i suoi assalitori. Un corpo pesante atterrò sulle spalle di Josh, tentando di artigliargli gli occhi, ma lui si voltò e gettò l'uomo in mezzo alla marea di facce ghignanti. Swan colpì con Crybaby, centrò una di quelle orribili facce sul naso e lo vide esplodere. «Carne fresca!» urlò il nano. «Venite a prendere la vostra carne fresca!». L'uomo con la barba nera iniziò a battere le mani e a ballare. Josh colpì qualcuno dritto sulla bocca e due denti volarono come dei dadi sul tavolo da gioco. «State lontani!» ruggì. «State lontani da noi!» Ma si stavano avvicinando adesso ed erano semplicemente troppi. Tre uomini stavano trascinando Liona tra la folla e Josh intravide il suo volto terrorizzato. Un pugno si alzò e calò e le gambe di Liona cedettero. «Donnazione!» Josh si infuriò, dando al maniaco più vicino un calcio sulla rotola. «Proteggi la bambina! Devo proteggerla!» Un pugno lo colpì al rene. Gli scalciarono via i piedi e lui perse la presa su Swan mentre cadeva. Delle dita cercarono di raggiungere i suoi occhi. Un pugno lo colpì alla mascella, scarpe e stivali si abbatterono sui suoi fianchi e sulla schiena e il mondo intero sembrò essere scosso da un moto violento. «Swan!» gridò tentando di alzarsi. Gli uomini si aggrapparono a lui come ratti. Guardò in alto, attraverso una rossa nebbia di dolore, e vide un uomo con occhi sporgenti come un pesce in piedi sopra di lui mentre sollevava un'ascia. Alzò il braccio in un gesto inefficace per pararla, ma sapeva che l'ascia stava per abbattersi e quella sarebbe stata la fine. «Oh, dannazione!» pensò mentre il sangue gli scorreva dalla bocca. «Che modo per andarmene!» Si preparò per il colpo, sperando che sarebbe riuscito ad alzarsi con le sue ultime forze e spaccare la testa al bastardo. L'ascia aveva raggiunto il suo punto più alto, pronta a calare. Allora una voce potente risuonò più forte del tumulto. «Fermi!» L'effetto fu quello di una frusta fatta schioccare sulla testa di animali salvatici. Trasalirono quasi all'unanimità e si ritirarono. L'uomo con gli occhi da pesce abbassò l'ascia e gli altri liberarono Josh. Lui si mise a sedere, vide suon a poca distanza e la tirò a sé. Lei stava ancora tenendo Crybaby e i suoi occhi esprimevano tutto il suo shock. Liona era in ginocchio nelle vicinanze, con il sangue che fuoriusciva da un taglio sopra l'occhio sinistro e un gonfiore viola che si stava alzando sullo zigomo. La folla arretrò, facendo spazio per il passaggio di qualcuno. Nel cerchio entrò un uomo robusto, in carne e pelato. Indossava una salopette di jeans e stivali da cowboy. Aveva il petto nudo e le braccia muscolose decorate da strani disegni di molti colori. Portava un megafono e abbassò lo sguardo su Josh, con gli occhi scuri sotto un'arcata sopracciliare pronunciata come un Neandertal. «Oh merda», pensò Josh. Quel tizio era almeno grosso quanto alcuni dei lottatori nei pesi massimi che lui aveva affrontato. Poi però, dietro al Neandertal pelato, seguirono altri due uomini con i volti dipinti, che reggevano un gabinetto in mezzo a loro, portandolo sulle spalle. E su quel gabinetto sedeva un uomo abbigliato con una vestaglia viola scuro e con una chioma bionda di riccioli sciolti, lunghi fino alle spalle. Aveva una barba soffice, di sottili peli biondi, che copriva un volto magro e stretto, e sotto le folte sopracciglia bionde i suoi occhi erano di un torbido verde oliva. Il colore ricordò a Josh uno stagno vicino alla casa della sua infanzia, in cui due ragazzini erano annegati una mattina d'estate. Si diceva, ricordò, che in fondo a quella torbida acqua verde c'era in agguato un mostro avvolto su se stesso. Il giovane, che poteva avere dai venti ai venticinque anni, indossava guanti bianchi, jeans blu, scarpe da tenni sadidas e una camicia a quadri rossa. Sulla sua fronte c'era il simbolo del dollaro in verde, sullo zigomo sinistro c'era un crocifisso rosso e su quello destro c'era un forcone da diavolo di colore nero. Il Neandertal sollevò il megafono alle labbra e ruggì «Tutti l'Odino, Lord Dalvin!»